e chi rappresentano io no sono decorative anche queste si ok perché stile liberty però il palco è un palco che ha anche degli esemplari ci hanno detto che c'erano dei pavoni una volta io vi lascio le nostre cartoline con i nostri dettati nel caso in cui voleste venire con noi a fare un'altra visita qui c'è anche la Giuliana grazie grazie